Che vittoria, che vittoria! 2-1, 2-1 in casa contro il Napoli era fondamentale vincere per il discorso Champions che tutti sappiamo con una sofferenza nel finale apocalittica, apocalittica, un Napoli che trova un calcio di rigore netto anzi uno non glielo hanno dato e uno non dato alla Juve, il secondo è netto al Napoli, è dato in segno e mette a segno questo calcio di rigore 2-1 negli ultimi minuti sofferenza totale per la Juventus che però porta a casa tre punti fondamentali era fondamentale battere oggi in Napoli, abbiamo fatto un primo tempo ottimo con tutti i reparti che hanno giocato benissimo mi è piaciuto il centrocampo, mi è piaciuto l'attacco, la difesa, abbiamo saputo soffrire benissimo nel secondo tempo grandissima vittoria, grandissima, grandissima vittoria, ci voleva un sacco monumentale Danilo, Danilo monumentale, mi è piaciuto anche molto a rabbia il centrocampo e Bentancur anche hanno giocato una buona partita e non me l'aspettavo all'inizio del match sono contento che Gianluigi Buffon abbia giocato in porta, si vede quando c'è Buffon in porta comanda la squadra, parla in continuazione, si fa sentire, si vede che c'ha 43 anni si vede che c'ha più di 700 presenze alle spalle, fondamentale è rientrato anche Paullino Di Bala ragazzi che ci ha messo 5 minuti a fare gol gol fondamentale, quello del 2-0 che ha dato più sicurezza sì abbiamo sofferto nel finale, abbiamo portato una vittoria a casa che in chiave Champions League era fondamentale, troppo troppo importante quindi adesso distanziamo il Napoli di tre punti e non abbiamo più nessuna partita in meno per fortuna finita le partite in meno Napoli fuori i tre punti, adesso dobbiamo gestire questo vantaggio giocare bene le prossime partite ma c'è stata una vittoria di squadra, di rabbia, di lotta grandi, mi sono piaciuti tutti, ottimo brevissimo Giorgio Echilini che nonostante aver fatto quel fallo da rigore ha fatto una partita ottima in fase difensiva sempre perfetto nelle marcature e tutto bravo Giorgio, bravissimo Ronaldo ha fatto la sua partita Chiesa anche lui monumentale ragazzi Federico Chiesa monumentale, quando corre non lo prendi mai l'azione del primo gol è fantastica è fantastica, l'azione del primo gol è stupenda ha fatto una roba assurda su Isai l'ha mandato al bar due o tre volte mette un cross basso dentro per Chiesa Ronaldo che fa un gol bellissimo grande, grandissima, grandissima vittoria che ci voleva e che ci voleva forza Juventus, l'avevo detto nel video motivazione, l'ho fatto l'altro giorno una vittoria di carattere da squadra per mettere lontano il Napoli e mettere questi tre punti fondamentali per non stare in corsa a un posto in Champions League che sappiamo che è fondamentale per non mandare una stagione tutta fallimentare ci voleva, giocavamo anche di mercoledì quindi c'erano le spalle la partita fatta col Torino da pochi giorni, due o tre giorni quindi anche a livello fisico un po' ne ha risentito la squadra soprattutto Quadrato mi viene in mente che a un certo punto ragazzi Quadrato non ce la faceva più in tant'è che l'ha tolto Pier ha messo dentro McKennie e Paolo Nio di Bala che ha messo un gol stupendo e godo, e godo fatemelo dire godo per questa vittoria godo, mi sono cagato addosso per il gol del Napoli però sono contentissimo forza Juventus forza ragazzi così, con questo carattere con questa voglia con questo gruppo unito di squadra possiamo fare un bel finale di stagione e andarci a vincere anche quel trofeo quella Coppa Italia è fondamentale adesso battere la prossima settimana vincere la prossima settimana godo per la vittoria da squadra da uniti da gruppo si lavora tutti insieme si difende tutti insieme si attacca tutti insieme da squadra possiamo fare ancora buoni risultati fino alla fine forza Juventus grazie a tutti